Il Podere Mille Pioppi si trova all'interno del Parco dello Stirone del Piacenziano ed è un'area agricola con degli edifici all'interno che è stata confiscata, stessa legge che confisca i beni alla mafia. Si trova all'interno del parco, quindi il parco ha ritenuto di svolgere delle sue attività istituzionali, in particolare un centro recupero animali selvatici, struttura che mancava in questa zona. Noi lavoriamo qui da alcuni anni e negli ultimi anni la vicinanza all'Associazione Libera ci ha suggerito insieme a loro di organizzare dei campi di volontariato, siamo stati molto lieti di organizzare questo. La cosa va avanti già da tre anni con ragazzi di tutta Italia che vengono a darci una mano sulle nostre strutture, quindi aiutare a recuperare gli animali selvatici in difficoltà, recuperare nel senso di riabilitare e poi anche lavori sulle strutture che vengono fatti tutte le mattine in questi campi che durano circa 7-10 giorni. Grazie a questo abbiamo potuto accedere a un finanziamento della legge regionale che si occupa proprio della rivalutazione di questi beni confiscati, in quanto una parte della nostra area è già aperta al pubblico. Gli stessi campi di Libera sono una dimostrazione di uso pubblico di un bene che era di fatto nelle mani della criminalità organizzata. In questo caso era un singolo, ma comunque si tratta sempre di criminalità e allora questo ci ha favoriti negli spazi rispetto ad altre realtà regionali, quindi noi siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo finanziamento che gestiremo insieme al Comune di Salsomaggiore Terme per completare l'edificio principale di questo podere che diventerà la sede del parco e quindi la sede di strutture disponibili per il pubblico, per la fruizione ma anche per la didattica e per attività di ricerca e di monitoraggio sul territorio.